Houston abbiamo un problema Signor sindaco, buongiorno E con chi stai parlando? Dici a me Ha un minuto di tempo per i problemi della città Guardi, oggi le faccio vedere dove ci troviamo innanzitutto Siamo all'ingresso nord di Piazza Ermerina proprio accanto al mercato MD al supermercato MD, zona Coccinella e abbiamo scoperto che qui c'è quella che alcuni definiscono una grossa perdita d'acqua ora lei dirà, vabbè, è successo ieri, l'altro ieri si è rotto un tubo no, qui sono anni che stanno segnalando questa perdita d'acqua ma a quanto pare nessuno interviene lei vede qua a terra un po' bagnato ma adesso le faccio vedere, guardi vedete come corre? guardi, da quel tubo arriva da quel tubo allora signor sindaco, abbiamo seguito un po' la canaletta quella canaletta porta l'acqua verso questo attraversamento, questo tombino e poi in campagna ecco dove finiscono i nostri soldi allora signor sindaco faccia una telefonata faccia intervenire qualcuno perché non è possibile buttare dei soldi così aspettiamo fino a domani a mezzogiorno altrimenti altrimenti ci arrabbiamo ah ecco, ci arrabbiamo ok